Benzinai sul piede di guerra e così anche nel Salento ad incrociare le braccia nelle prossime ore. Saranno anche i titolari di pompe di benzina che nelle ore notturne chiuderanno gli impianti self-service contro un caro coaguranti di cui sostengono di essere loro stessi vittime. Uno sciopero annunciato nei giorni scorsi. Gasolio aumenta ma il ricavo dei benzinai rimane fisso, circa 3 centesimi e mezzo al ritro. In compenso i litri erogati diminuiscono a causa dell'incremento dei prezzi e i costi di gestione aumentano. L'aumento medio delle bollette elettriche per i benzinai è del 135%. In un anno sarebbero oltre 10.000 euro in più per ciascun impianto. Così si metterebbe a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese. Le associazioni inoltre hanno scritto ai parlamentari perché sensibilizzino il governo sulla necessità di un intervento immediato che consenta a tutti i benzinai consumatori e imprese almeno di mitigare gli effetti di un fenomeno sempre più preoccupante. Indigna inoltre l'apparente indifferenza del governo che non può limitarsi a far cassa secondo i benzinai grazie all'incremento del gettito dovuto a IVA e a Cisevarie.